Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale Prima di iniziare a questo video io vi voglio scarcare e lasciare un mi piace Allora Oggi siamo tornati su Minecraft Cioè finalmente ragazzi dopo Non so davvero quanto tempo E allora Il tema di oggi Le case le abbiamo fatto io i Gobbi Saranno le case animali Ora non fate il caso che io ho un ninja Ho dimenticato il camion Però lascia stare L'animale che ha scelto di fare Gobbi Sarà Sì lo so ma è un demone No è un maiale ragazzi Un perfetto maialino Ok la cosa strana no Che Gobbi ci ha voluto mettere i suoi capelli Cioè è normale Ho capito ci vuole un po' di Meraviglia non so Qualcosa di bello per fare il maiale Questo non c'entra niente Comunque lasciamo stare La cosa ancora più strana Certo è bello perché guardare qui Si è messo diciamo la sua scultura La sua scultura diciamo Un esempio da prendere L'esempio è la prendere L'ha rifatto ed entro Secondo me è tra le per il lasso Perché Cioè Sembra che c'è la francia gigante Madonna Allora aspettate è la bocca Ho confuso la bocca con il lasso Ragazzi Ho confuso la bocca con il lasso Che era questo qui Però come potete vedere Comunque è bello Io sono uguale Certo però Ha sbagliato le dimensioni Sti cavoli Le dimensioni non servono Sbagliato le dimensioni E allora Comunque Facciamo vedere anche le altre parti Abbiamo le zambe Che sono uguali Perfette Si va a vedere anche dal modello Ovviamente ci sono delle porte E proviamo a andare Qua La 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 Si può salire? Aspettate No non si sale Come saliamo? Oddio Ok Possiamo salire Beh Va bene Fai niente Interessante Non è strano Quello stomaco Ci sia niente Ci voglio dire I 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 Sarebbe l'uscita segreta? Cioè, ragazzi, si dovrebbe uscire da dal culo in teoria? Non lo so. Cioè, ditemi voi se non è strano. Da dove si dovrebbe uscire? Perché è una cosa che non ha senso. Cioè, sì, ce l'ha un pochino. Cioè, però, secondo me ha meno senso che si esce dall'indietro. Comunque, fatto questo pezzo passiamo all'altro. Ah, giusto la cottina. Ha una coda. Un po' strano. I suoi capelli, vabbè, li vuole tagliare i suoi capelli. Questo qui invece è il mio. È un coccodrino, certo, voi direte, un coccodrino non penso sia così, però è pur sempre male, in questo modo, fare un coso gigante. Guardate che bello, pure in mezzo l'acqua ho fatto poi la coda, l'acqua. Questi qua sono gli occhi. Sono gli occhi, i nendi. Lo so, ragazzi, sotto ci doveva stare un'altra parte di labbro e poi i nendi, però ho pensato, vabbè, magari cosa è più bello. E si entra da qui? Sì, esatto, i suoi nendi sono sono rotti. Ok. E io non ho fatto, diciamo, una casa. No, io gli ho fatto proprio il coccodrino. Quindi, vedete, qui è rosso, che è la bocca, no? Poi si entra. Et voilà. Lo so, è strano, vero? È un po' strano, effettivamente. Stai pensando, che cos'è? È infatti, è strano. Perché, in teoria, è lo stomaco del coccodrino. Certo, sì, voi direte Madonna, ma sono tutti i miei i miei mani che ha mangiato, effettivamente. Però, guarda, ci sono anche le teste. Comunque fa bene quel coccodrino. Ci sono tante teste dei mani mangiati, le torte. Effettivamente, non se il coccodrino mangia torte, ma se è famato, secondo me, si mangia tutto di più. Quindi, io comunque, nelle torte ce le ho volute mettere. Poi abbiamo già i mari, i polli, mamma mia, i polli. Di tutto è di più, i porchi, i porchi, secondo me, ragazzi, sono il piatto preferito. Eh, guardate, le sue teste appena mangiate da adesso, proprio il giorno fa, forse. Le pecore, ragazzi, qual è l'animalio che lo vedete di più su Minecraft? Io le pecore, io le detesto. Sì, fa un po' il mare giusto. Odio le pecore, ragazzi, le odio, le odio. Oh mio Dio, ho ucciso il coccodrino! Oddio! Oddio! Che errore! Ho fatto un grande errore, ho ucciso il mio cocco! Coccodrino, non so come si dice. Eh, ho ucciso il mio cocodrino. Avevo ucciso il mio cocodrino, non ci credo. No, è bello. Comunque, ehm, come potete dirvi, cioè, questo è un cocodrino, un animale normale, certo, le torce, forse, non se ne dovrebbe mangiare un cocodrino, eh. Però, è meglio dell'animale di Gobby, secondo me, perché, ci ha fatto, ehm, non so i capelli, avete mai visto, un porco con i capelli, ha la pelliccia, ma, ehm, 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 si è vagato, si è bazzello, ehm, mi fa uscire, il cocodrino mi ha mangiato, non mi voleva uscire, ehm, guarda, t'ho creato io, come t'ho creato, ti ci torgo, allora, ehm, sì, ehm, è troppo famoso questo cocodrino, guardate che me la coda, a parte questo, Gobby, ah, l'uscita di sicurezza era il buce al culo, come ho fatto vedere prima, a me sembrano due buci, comunque, non ho messo nient'altro, se quello aveva più qui dentro, perché, ho tutto lo spazio che c'è, secondo me, ci avrebbe potuto mettere anche qualcosa in più, ehm, la cosa brutta è che, se uno poi ci vuole giocare sul pipe, non ci può salire, cioè io ci ho trovato, ho dovuto mettere il muro, poi, qui ci ha fatto le porte, e qui è vuoto, cioè, comunque ci sbordai, te, ci spieghiamo dal cuce, dal cuce del culo qua, ah, no, qua si entra da dietro, quindi, cioè, è una cosa un po' strana, come, comunque, eh, cosa, oh, non l'avevo notato, non l'avevo notato, prevedo un po', guarda, abbiamo le casse, wow, si, geniale, come, davvero, bello, 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 guardate, perché un maiale dovrebbe avere, lasciamostare, lo l'ho capito, perché un maiale, dovrebbe, avere, eh, il carro, quello là, come si chiama, per andarci, insomma, vabbè, quello che fa subitare, non c'è neanche perché, ah, è la cacca, guardate, ha fatto tanta cacca, quello è il baggine, eh, sì, è pure ricco, eh, questo fa un maialese ricco, vabbè, io faccio più, ah, non posso dormire, vabbè, sì, ragazzi, abbiamo problemi zombie, sì, questo porco si mangia più zombie, l'abbiamo appena scoperto, va bene ragazzi, io credo che, eh, questo video, sia, giunto, al termine, eh, scrivete qui sotto nei commenti, il, prossimo, eh, diciamo, video di Minecraft, cosa le volete fare, di progetto, e, eh, infine, eh, nel precedente video, quello che vi facevo vedere, il cannone, che spara, eh, diciamo, tutte quelle bolle, quella schiva, eh, mi sono sbagliato, infatti, sebbene siete, diciamo, accorti, no, se avete letto i commenti, io, mi sono corretto, perché il calzino è di spugna, no, di lana, serve il calzino di spugna, quindi chi ha letto i commenti, ne avrà, eh, scoperto che ho sbagliato, io comunque lo dico, per chi non legge i commenti, eh, e va bene, quindi, mi ricordo, il calzino è di spugna, perdonatemi per questo, eh, errore, ma, mi sono, sempre sbagliato, quella è la prima volta, quello di qua, ok, quindi ragazzi, il video è finito qui, il precedente video, vi ricordo di arrivare a 10 mi piace, per lo scherzo a mia zia, e, ciao!